Invece una tartaruga è stata salvata nel brindisino da una bambina. Se una bimba di otto anni non l'avesse notata, questa storia avrebbe avuto tutt'altro epilogo. Lieto fine per una tartaruga caretta caretta, riportata in mare dopo essere stata curata per una malattia polmonare al centro recupero tartarughe marine di Torre Guaceto. L'animale, ribattezzato Giorgia come la sua salvatrice, era stato notato dalla bambina durante una gita in barca con la famiglia, a largo di Marina di Fasano. Stava visibilmente male e non riusciva ad immergersi. Se non fosse stata soccorsa sarebbe morta in breve tempo. I genitori di Giorgia l'hanno recuperata e portata al centro di Torre Guaceto. I veterinari hanno scoperto che nelle settimane precedenti era finita per due volte nelle reti dei pescatori ed ogni volta era stata curata e poi liberata in mare. Questa volta ci sono voluti due mesi per rimetterla in salute. Una volta guarito, l'esemplare sessantenne è stato riaccompagnato in mare dalla stessa bambina che l'aveva salvato e dai suoi genitori Aldo e Alessia.